E le due società si sono fatte anche sentire sui social con un comunicato congiunto diffuso in giornata, lo andiamo a vedere insieme, questo è quello del Barletta, dopo qualche anno di assenza si legge torna uno dei derby più sentiti e per questo Brindisi e Barletta, congiuntamente e con fiducia, guardano al match di domenica 13 novembre. La certezza delle due società è di vivere una giornata di sano agonismo in uno stadio ricco di passione sportiva, pieno e colorato di bianco azzurro e bianco rosso, scriviamo e l'appello insieme, una bella e positiva pagina di sport.